Ultima pillola di maturità, poi ci rivediamo il prossimo anno per il prossimo esame di Stato e questa pillola è dedicata al concetto di storia in Hegel, Mark Schopenhauer e con alcuni riferimenti a Giovanni Verga. Partiamo da Hegel. Hegel ha una concezione idealistica ovviamente della storia. Per Hegel la storia è un divenire razionale e il fine della storia è la realizzazione della libertà del mondo. Il fine della storia dunque è la realizzazione della razionalità più piena, più matura, più razionale. La ragione si deve fare pienamente razionale e la storia marcia verso la realizzazione di questa razionalità. Razionalità e libertà per Hegel coincidono. Maggior razionalità, maggior libertà. E la razionalità e la libertà ovviamente del tutto. Le tappe della conquista della libertà non sono conquiste degli uomini, non sono conquiste dei singoli, non sono conquiste dei popoli, ma sono conquiste dello spirito, dello spirito assoluto, dello spirito infinito. Gli individui, i popoli e dunque gli stati, gli individui, i popoli, gli stati, altro non sono che dei mezzi utilizzati dalla ragione, dallo spirito per realizzare pienamente se stesso. Lo spirito per realizzare pienamente se stessa la ragione. E dunque il protagonista della storia è lo spirito. E l'uomo ne subisce le mosse, ne subisce il grande gioco. Lo spirito dunque utilizza alcuni individui, i corretti individui eccezionali o gli eroi, per realizzare se stesso. Da Alessandro Magno a Giulio Cesare, da Carlo Magno a Napoleone, essi sono astuzie della ragione per realizzare la libertà del mondo, per realizzare la realizzazione, per realizzare la razionalizzazione, la razionalità, la libertà della realtà. La storia marcia verso la libertà del mondo, la libertà del reale, la libertà ovvero la razionalizzazione, la profonda razionalità dell'essere, del mondo, dell'essere, della realtà. Per Marx invece la storia non è spirituale, non è ideale, beh sì la storia è materiale, è fatta da uomini. I protagonisti della storia sono dunque gli uomini, sono i popoli, sono gli stati, sono gli individui, sono le condizioni ovviamente materiali a fare la storia. Non è lo spirito, non è la ragione assoluta a guidare la storia, ma sono le condizioni storiche, le condizioni materiali, le condizioni reali, concrete, a determinare che cosa? A determinare le religioni, a determinare il diritto, a determinare le visioni filosofiche, artistiche e culturali della società. E dunque la storia è tendenzialmente mossa dalla dialettica, bisogno, soddisfacimento, che si realizza questa dialettica attraverso il lavoro. E dunque il soddisfacimento dei bisogni, il lavoro, sono il motore della storia, il quale poi diventa fondamentalmente rivoluzione. Perché? Perché il lavoro, i bisogni, i soddisfacimenti producono una società divisa in classi, una società divisa in classi, in classi che confliggono. E la conflittualità tra le classi è altresì un motore fondamentale della storia. La storia è un continuo susseguirsi di lotta di classe, dai patrizi ai prebei, dai liberi agli schiavi, alla nobiltà alla borghesia per giungere alla borghesia al proletariato. E secondo Marx la classe sociale operaia, la classe del proletariato, porterà con sé una visione, una prospettiva di emancipazione universalistica e sarà la lotta conclusiva, di classe conclusiva, che dovrà liberare i marginali, gli sfruttati dagli sfruttatori, dagli oppressori, per arrivare a una società non più divisa in classe, non più divisa dunque in base al principio dello sfruttamento di alcuni uomini, pochi su molti uomini. Dunque pochi uomini che accumulano ricchezza, la maggior parte di uomini che sono strumenti, mezzi per la realizzazione della ricchezza e del profitto di pochi uomini. Dunque storia idealistica per Hegel, storia materialistica per Marx. Per quanto riguarda invece Schopenhauer, la storia è nient'altro che il ripetersi dell'immane tragedia, cambiano gli attori, cambiano le comparse, ma la sceneggiatura, la regia è sempre la stessa ed è quella della volontà di vivere assoluti, incausata, senza scopo cieca, di quell'egoismo assoluto che permea e pervade ogni cosa del mondo, nel mondo e dell'universo. Dunque la storia è un ripetersi di egoismi, la storia è un ripetersi di tragedie, di guerra, di sopraffazione. Non c'è dunque una visione progressista della storia in Schopenhauer come invece vi è in modo diverso in Hegel e Marx. Perché per Hegel la storia è una marcia triunfale verso la ragione, verso la libertà del mondo, verso la realizzazione della razionalità, della libertà universale. Per me la storia è una marcia rivoluzionaria che passa attraverso la lotta di classe, che porta all'emancipazione degli oppressi, nella lotta contro gli oppressori, dunque un progresso, la storia è vista come progressiva, come lotta di classe per l'emancipazione delle classi subalterne attraverso il lavoro. In Schopenhauer la storia è una staticità, una rigidità e una immane tragedia che si reitera, che si ripete sempre uguale a se stessa. Nel copione fondamentale, nella regia, nella sceneggiatura, cambiano appunto soltanto gli attori, i protagonisti, le comparse. Sono dunque gli eventi storici intrisi della stessa immane, appunto, traicità della stessa immane, dolore. E qua il collegamento è naturalmente con Giovanni Verca, il grande appunto naturalista, verista, italiano, però non intriso di fiducia nel progresso nelle scienze positivistiche, ma bensì portato a vedere nella storia un falso progresso, il progredire delle scienze è appunto apparenza. Perché? Perché in realtà la condizione umana nella storia, nella vita, è tendenzialmente immutabile, vi è un destino, vi è un fatto di immutabilità che schiaccia soprattutto i vinti, i soggetti deboli, i sociali, individuali, i marginali, non riescono a mutare il corso degli eventi. Dunque la storia non presenta un progresso per i protagonisti dei romanzi di Verga. Anzi, i protagonisti, i personaggi dei Malavoglio, di Mastro Don Gesualdo, ogni volta che tentano di cambiare il corso della storia, il corso degli avvenimenti, vanno incontro a ancora più tragicità, ancora più dolore. E dunque c'è l'impossibilità di cambiare il corso degli avvenimenti, il corso della storia. Dunque non c'è un progressismo, perché le classi sociali più umili, le classi sociali più deboli, sono destinate a rimanere tali. Posso soltanto attraverso atti di eroismo provare a modificare la loro condizione, ma atti di eroismo che poi di fatto rivelano inutili. E Verga prova nei confronti dei protagonisti, dei vinti, dei marginali, dei soggetti appunto così schiacciati dalla storia della vita, prova un senso di umana pietà, se dunque non c'è un annerito, una spinta rivoluzionaria verso il cambiamento nei romanzi di Giovanni Verga. Dunque vi ho presentato due concezioni della storia progressive, progressiste, quelle di Hegel e quelle di Marx, la prima idealistica, spiritualistica e razionale, la seconda materialistica e razionale, e due concezioni pessimiste della storia, quella appunto assolutamente pessimista di Schopenhauer e quella di fatto intrisa di pessimismo, anche di dolore, di accettazione del corso degli eventi di Giovanni Verga. Questa era l'ultima pillola di maturità, ormai gli orali stanno terminando, non mi resta che augurarvi una buona estate, delle buone vacanze, a voi tutti maturandi, a voi tutte maturandi, e passate ancora sotto il canale, a lasciare un segno, a lasciare un commento, per tutti gli altri futuri maturandi, ragazzi della quarta di questa notte, ci vediamo con l'epidio di maturità a fine maggio e giugno del prossimo anno, e questa è stata, ho detto tantissime rubriche, ogni settimana un autore nuovo fuori dal programma tendenzialmente liceale, si continua con la lettura di Nici, così parlo a Zaratustra, e ritornerò alla rubrica di cinema e di libri. Buona estate a tutti e in bocca al lupo, buona vita!